Ciao a tutti amici miei e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Allora, ultime notizie Samp. Allora, siamo nella settimana dove comunque ricomincia il campionato e siamo nella settimana che ci porterà alla sfida durissima contro il Napoli a Napoli. Sarà una partita difficilissima, tostissima, però le partite bisogna giocarle tutte e quindi vediamo che partita ci aspetta. Allora, parto dal presupposto che io resto sempre fiducioso e quindi secondo me potremmo anche giocare una buona partita. Detto questo, le notizie di Sampa sono che oggi di Francesco si è allenato comunque era con la squadra senza la dirigenza. Quindi sicuramente questa è stata, secondo me, una buona mossa perché comunque in questa maniera si può lavorare molto molto più tranquilli quindi anche a livello mentale sia la squadra che di Francesco hanno potuto lavorare appunto con più tranquillità perché sicuramente il fatto della cessione secondo me ha influito molto molto sul rendimento che comunque i giocatori possono avere. Quindi sicuramente questa è stata una buona mossa. Un'altra mossa che secondo me dovrà essere fatta e credo che verrà fatta da Di Francesco sia quello di fare un cambio modulo un cambio modulo che è un 4-3-3 di Francesco si potrebbe pensare a un 3-5-2 della quale forse Francesco ci ha già lavorato oppure un 4-4-2 quindi sicuramente cambiando questo modulo ritornerebbe meglio Quagliarella perché secondo me alla fine Quagliarella va in sofferenza quando è solo quindi avere un compagno di reparto d'attacco sicuramente è meglio per lui e comunque per tutti noi questa potrebbe essere una cosa ma sicuramente qualche novità secondo me la vedremo anche in difesa perché purtroppo la coppia Colle e Murillo non ha dato quella affidabilità che comunque ci aspettavamo credo che nessuno dei due abbia comunque diciamo quella cosa che Andersen aveva alla fine comunque di giostrare da fare appunto il regista in difesa colui che comanda la difesa secondo me nessuno dei due riesce a fare questo quindi io credo che ci sarà un cambio sicuramente molto probabilmente vedremo Ferrari magari in coppia con Murillo se passeremo a un 3-5-2 attenzione perché il terzo chi lo sa potrebbe essere proprio Chabot quindi sarei contento anche di vedere questo Chabot dall'inizio anche se non è la partita ideale per vedere nuovi arrivi però diciamo che in qualche modo prima o poi devono giocare e sicuramente in questo momento non abbiamo bisogno quindi chi ha carattere lo tiri fuori e lo dimostri sicuramente abbiamo anche Rigoni che è stato l'unico ottimo acquisto almeno sulla carta per quello che si può vedere adesso quindi sicuramente farà comodo alla Samp e alla Caus appunto già da domenica contro Napoli staremo a vedere ultima notizia riguardante la cessione allora non si sa ancora un granché credo che comunque dalle voci che ci sono siamo ormai vicini ma siamo sempre vicini già da un bel po' si diceva però vabbò però venerdì venerdì questo venerdì che arriva ci dovrebbe essere un'importante novità un'importante novità adesso sono solo sono solo delle come dire non ho proprio delle certezze su questo però venerdì potrebbe essere delle importanti novità che non è un primo passo perché è già stato fatto il primo passo verso la cessione ma è un passo molto molto importante praticamente il passo che porta poi alla definizione di tutto quindi in teoria in teoria potremmo potremmo veramente esserci io me l'auro me lo spero prima di tutto perché comunque così viene una nuova società l'ambiente si tranquillizza quindi si può giocare più serenamente questo senz'altro purtroppo la nuova società non potrà fare tantissimo perché il mercato è chiuso anche se io occhio a qualche comunque qualche svincolato io qualche occhio lo darei e magari la nuova società qualcuno di nuovo di questi riesce a portare tra l'altro oggi dicono che forse è sembrato di aver visto Silvestre in città girano anche delle foto sembrerebbe lui però non c'è ancora nessuna fonte che ci dica questo quindi niente speriamo bene che comunque Di Francesco in settimana appunto riesca a trovare un qualcosa di diverso e trovare quegli stimoli giusti in una squadra che comunque ha bisogno di tirare fuori il carattere speriamo che ci riesca io confido sempre in Di Francesco secondo me ritengo che comunque sia un grande allenatore e secondo me alla fine non è stato comunque un acquisto sbagliato difficile un acquisto difficile chiamiamolo ma non sbagliato quindi fiducia in Di Francesco fiducia nella squadra e fiducia nella nuova società che verrà detto questo commentate condividete iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate un like e un saluto a tutti ciao